Musica Prepotenza, degrado, immobilismo e nessuna visione della città. L'ex direttore del comune Giuseppe De Leo critica l'amministrazione e lancia la sua candidatura a sindaco di Fano. Toleranza a zero per chi devasta, imbratta e spaccia. Ha detto, voglio una città bella e accogliente, senza essere subalterni a nessuno. Razzie di oche in una proprietà privata a Sant'Andrea in Villis. Branco di Lupi attaccano dieci casi. Eccezionali ritrovamenti archeologici a Monte Giove, sul luogo dei trappisti, individuata una preesistente comunità monastica. Prana di Carignano al via il primo stralcio dei lavori di consolidamento, costo dell'intervento 550 mila euro. L'Arzilla fa ancora paura, la protesta dei residenti che chiedono interventi strutturali per salvaguardare la propria incolumità. 4 milioni di euro per 11 comuni marchigiani. Ecco il contributo della Regione Marche per interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storie. Un pomeriggio di emozioni e colori con la rassegna fotografica Fano e dintorni. 20 i fotografi coinvolti nell'iniziativa inaugurata ieri a Gimara. Lunedì 25 settembre, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Un uomo sulla cinquantina è caduto dal terzo piano di un'abitazione a Sant'Orso di Fano, oggi nel tardo pomeriggio. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che lo ha trasportato al Torrette di Ancona. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute. Sul caso indaga il commissariato di Fano. Sono al vaglio tutte le ipotesi e non si esclude il gesto volontario da parte dell'uomo. Cambiamo argomento. La campagna elettorale è entrata nel vivo. Ieri Giuseppe De Leo ha presentato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Fano per disegnare una storia nuova. Oggi è tempo di pensare, oggi è tempo di cambiare. Fano 2024, una storia nuova. Sono state le immagini della città di Fano, accompagnate da queste frasi ad aprire il convegno di Giuseppe De Leo al Cinema Masetti. Il direttore generale del comune, ai tempi delle giunte a Guzzi, si dice pronto a governare la città. Prima del suo intervento hanno preso parola Renzo Rovinelli, che ha moderato l'incontro, e Antonio Paoletti, ex dirigente del traffico e della viabilità. Entrambi hanno parlato di democrazia e partecipazione, del forte calo di affluenza alle urne e di una disaffezione verso la politica. Poi è stata la volta dell'ex assessore Riccardo Severi. Abbiamo vissuto dieci anni di immobilismo, ha detto, dove abbiamo solo galleggiato. Questa città ha bisogno di nuotare verso un progetto che non c'è e verso una prospettiva. Porto turistico, terme, campo d'aviazione e imprese che hanno dichiarato il fallimento, tutto aggiunto in completo abbandono per le non scelte dell'amministrazione. Tra i relatori anche due organizzatori di eventi, Francesca Cecchini e il 21enne Davide Pieretti. Nei loro interventi hanno parlato di manifestazioni, spazi e piattaforme inesistenti per i ragazzi, del lungomare abbandonato, di assenza di comunicazione, del teatro che dovrebbe essere aperto a tutti e di troppa burocrazia anche per organizzare una festa in spiaggia. Invece l'avvocato Stefano Zaffini ha puntato i riflettori sulla sicurezza e sulla microcriminalità che sta preoccupando i cittadini. È davvero tutto sotto controllo, come dice il sindaco, ha chiesto Zaffini. Eppure ci sono gruppi di extracomunitari che spacciano, subriacano e si sentono padroni delle zone che frequentano. Servono operazioni interforze e più rigore. L'unico partito che ha portato il proprio saluto è il convegno e stato azione, rappresentato dall'ex vicesindaco di Seri Stefano Marchegiani e da Silvano Franchini che in questi tre anni ha lavorato su diversi dossier del comune. Mentre quest'ultimo si è soffermato sulle occasioni perse, come il digestore e sulla sanità, per Marchegiani chi dirige una città deve concretizzare i programmi e avere una visione, altrimenti regredisce in tutti i settori. L'ex assessore ha parlato di asfalti, della cura del verde, dell'urbanistica, di servizi igienici e della città di bambini che deve essere riempita di contenuti. A chiudere l'incontro, Giuseppe De Leo, che ha espresso una profonda insoddisfazione verso l'attuale amministrazione. De Leo, che cosa l'ha spinta a scendere in campo? Beh, una città che è ferma dopo un decennio in cui l'amministrazione ha combinato poco e quel poco l'ha fatto pure male e soprattutto una arroganza, una prepotenza nel cercare di, come dire, far delle cose senza senso, no? Dalla variante Gimarra a tante altre situazioni che sono rimaste ferme per anni e sono sotto gli occhi di tutti. Un degrado da città inaccettabile e soprattutto una mancanza di visione, di futuro per i prossimi anni. Io veramente pensavo di fare altro, però molte persone mi hanno chiesto di fare questa scelta e io ho pensato che sia stato giusto, sia giusto dare qualche anno della mia vita per la mia città. Non si può amministrare una città come Fano, ha poi aggiunto De Leo, senza averne le competenze necessarie, dal patto di stabilità al PNRR fino alle risorse che arrivano dalla Regione e dalla Comunità Europea che vanno intercettate e soprattutto spese meglio. Fare sindaco e sapere di non saperlo fare, ha detto, è disonesto e nei momenti cruciali non c'è stato il coraggio delle scelte. L'amministrazione è sparita, come sul tema della sanità. Dopo le tante battaglie, ha precisato, l'argomento è scomparso dai radar della politica. L'impegno che viene messo in questo momento dalla Regione, dal Presidente Acquaroli e anche dall'assessore Baldelli è incomiabile sotto certi punti di vista. Viene vista anche, viene intervista anche la possibilità di un nuovo palazzino all'ospedale di Fano ma secondo me ancora non è sufficiente. Cioè noi vediamo un depauparamento proprio dal nostro ospedale fermo restando che giustamente si è cercato di proteggere i presidi ospedalieri che sono a Pergalo, Urbino, ma questo non può essere ovviamente a discapito di Fano. Al pronto soccorso è un disastro, non so se voi avete avuto un modo di andare, è una cosa tragica. Noi dobbiamo in qualche modo correggere questo modo di vedere perché la sanità non va ancora bene, deve essere assolutamente ripreso il discorso sulla sanità perché la sanità è un problema serio e riguarda tutti, non c'è destra o sinistra, riguarda tutti i cittadini. Sul fronte della sicurezza invece qual è secondo lei la soluzione? L'ho detto chiaramente, tolleranza zero per coloro che devastano, coloro che imbrattano, coloro che minacciano, coloro che insultano, coloro che spacciano. Su questo ci deve essere tolleranza zero. Il permanismo non paga, bisogna essere accoglienti, bisogna capire le situazioni personali di soggetti che a volte hanno bisogno di essere reinseriti nella società ma il permanismo che sta emergendo in questa città è assolutamente inaccettabile. Questa situazione non deve in qualche modo attecchire a Fano. In definitiva come vorrebbe la città di Fano? Una città bella, una città dove la qualità della vita è alta, dove la gente è contenta di venire in questa città, dove i cittadini sono orgogliosi di vivere in questa città. E soprattutto una città che sia attraente, attraente verso i turisti, verso lo straniero, verso coloro che vogliono investire. Noi dobbiamo diventare una città vera, non essere subalterno a nessuno perché noi abbiamo una tradizione, una storia che para già da solo. Gli agenti del commissariato di Fano diretti dal dirigente Stefano Seretti continuano ad effettuare controlli nel centro storico di Fano al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'attività i poliziotti hanno notato due gruppi di giovani, compresi anche minorenni, nei giardini di piazza Amiani. Visti alcuni movimenti sospetti, con incontri e spostamenti in zone limitrofe più riservate, hanno deciso di procedere al controllo di un gruppetto di giovani composto da quattro ragazzi di origine tunisina, di cui due maggiorenni e due minorenni. Uno dei maggiorenni, uscito da poco da una comunità del territorio, attualmente senza fissa dimora e con precedenti per spaccio di droga, è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Il giovane è stato denunciato a piede libero dall'autorità giudiziaria. Uno dei minorenni è invece risultato essersi allontanato da una comunità per minori in Abruzzo ed è stato affidato ai servizi sociali del comune di Fano. Pesaro piange il suo guerriero del ring, Luigi Minchillo, storico protagonista della box italiana e internazionale che ha portato il nome di Pesaro, città dello sport, ha detto il sindaco Matteo Ricci, sui gradini più alti del mondo. Campione olimpico a Montreal nel 1976, campione d'Italia ed Europa e pesarese adottivo da oltre 50 anni. Minchillo ha saputo trasmettere la sua passione a tanti giovani che negli anni si sono avvicinati a questa disciplina, trovando in lui una guida preziosa sul ring e fuori. Ricci e Vimini hanno espresso cordoglio anche per la scomparsa di Francesco Sorlini, stimato dirigente dell'amministrazione comunale, sportivo ed ex giocatore della Vittoria Libertà Spesaro, figura rispettata anche nell'ambiente forense per gli incarichi ricoperti in magistratura. Come ricordato dal sindaco e dal suo vice, Sorlini ha collaborato come dirigente dell'assessorato alla cultura alla creazione del Rossini Opera Festival e ha contribuito all'organizzazione di eventi come la mostra del cinema, gettando basi importanti per quella che oggi è diventata capitale italiana della cultura 2024. A Sant'Andrea in Villis, siamo sempre nel comune di Fano, un gruppo di lupi è entrato in una proprietà privata, scavalcando la recinzione e facendo razzia di dieci oche. Il fatto è successo lo scorso fine settimana. Il proprietario commenta, basta, è ora di fare qualcosa. Praticamente sono 30 anni che abbiamo le oche qui, mai successo niente. Praticamente ce ne avevamo fino a 30. Purtroppo è arrivato qualcuno, ce l'ha portati via tutte, ce l'hanno uccise. E' a questo esperto che sono stati dei lupi, un branchetto dei lupi, che sono affamati, purtroppo attaccano anche vicino a casa, anche a 10 metri dalla casa. Adagiate lì, sull'appezzamento di terreno del signor Nucci, sono soltanto tre delle dieci oche che nella notte, tra sabato e domenica scorse, i lupi hanno ucciso. Alcune di loro riportano i segni dell'attacco, altre invece non ce l'hanno fatta dalla paura che in quegli istanti hanno provato. Altre tre invece si sono salvate. Siamo in strada Madonna degli Angeli, a Sant'Andrea in Villis, nel comune di Fano, dove un branco di lupi sono entrati nella proprietà di Dante facendo razzia nel recinto degli animali. Dante, che cosa è successo? Nella mia proprietà è successo che domenica mattina, alzandomi alle sei e mezza, nel buio, ho visto andando su che c'era un'oca qui in mezzo al campo. Girando con i cani, non ho visto più le oche, saranno dall'altra parte. Allora ritorno giù con i cani, c'era mia moglie qui, la Cleofe, mi dice, non ci sono più le oche, sono tutte morte, non ci sono più. Non lo so. Abbiamo guardato, abbiamo trovato un'altra là e un'altra dentro lì, dentro il recinto. Praticamente le altre non sappiamo in dove sono finite. È successo qualcosa di grosso, perché dieci oche sono tante. Allora ho cominciato a guardare, abbiamo visto queste zampate. Allora ho chiamato un esperto per sapere, perché non sapevo io. Ha misurato queste zampate. Ha detto, no, qui è il lupo, che si è avvicinato, perché questi lupi, ha detto, ci sono a Carignano, è un branchetto di 6-7 lupi, ha detto, sono in giro. Praticamente non ci sono più caprioli. I cosi qua, uno aveva i capretti, li ha avuto da chiudere, perché sennò entravano tutti. Praticamente non hanno più da mangiare, i lepri non ci sono più. Cosa mangiano? Adesso attaccano vicino alle case, vengono a prendere gli animali di penna, perché non hanno più niente da mangiare. Quindi i lupi hanno scavalcato la rete? Hanno scavalcato la rete, sono entrati cavalcando le reti. Quanto era alta la rete? È alta un metro e venti, praticamente, però l'altra, la recensione, è molto alta e non hanno spugato da nessuna parte, perché con l'esperto siamo andati a vedere giù e non hanno spugato, hanno solo scavalcato. E dice, queste ocche le hanno portate via, perché non ci sono in giro. Le ocche non sono come i caprioli, no, che li mangiano lì. Queste se le hanno portate via, perché hanno i figli e qualcosa. Starnazzano le uniche tre ocche rimaste, quasi a richiamare le altre, che ora non ci sono più. Non si può fare finta di nulla, ha aggiunto poi Nucci, una situazione che sta diventando ripetitiva e pericolosa. Perché succedono queste cose? Se loro, gli animalisti, vogliono tenere gli animali, questi lupi, per carità, io sono molto contento, però devono darli anche da mangiare, portarli su, facendo i cacciatori con i cinghiali, portavano su da mangiare per loro. Noi non possiamo, perché adesso qui, va bene, è successo, va bene. C'era un bambino qui, arrivano di giorno, un bambino, vanno giù, cosa succede? Comunque, siamo messi male con questi lupi. Una fanese neo-maggiorenne è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada con la bici sulle strisce pedonali. È successo oggi, poco dopo le 14, in via Soncino a Fano, dove oltre ai sanitari è intervenuta la polizia locale che, sentiti anche i testimoni, sta ricostruendo la dinamica. Ne è uscita illesa invece la 65enne di Cartoceto a bordo della sua autovettura. E sempre a Sant'Orso i Vigili del Fuoco, oggi pomeriggio, intorno alle 17.15, hanno spento un incendio divampato all'interno di un cassonetto della carta nell'isola ecologica di via Divisione Carpazzi. Non è la prima volta che la valletta di Montegiove, dove dovrebbe sorgere il nuovo convento dei frati trappisti, ospita una comunità monastica. Lo provano i risultati di un'indagine archeologica compiuta sotto la direzione della soprintendenza, che ha ritrovato reperti risalenti all'undicesimo e dodicesimo secolo. Gli ha presentati il vicesindaco Cristian Fanesi, che è stato intervistato da Massimo Foghetti. Sentiamo. Una novità che riguarda gli scavi archeologici preventivi, che sono stati eseguiti sotto il controllo della sovrintendenza. Che cosa è emerso? I frati, insieme alla sovrintendenza, hanno disposto uno scavo preventivo per verificare che sotto l'impronta del nuovo monastero non ci siano stati reperti archeologici degni di rilevanza. e in realtà hanno scoperto delle fosse silos, cioè delle fosse scavate in arenaria, nell'arenaria del Monte Giove, sotto la superficie diciamo del piano di campagna, che servivano in antichità per deporre e conservare i derrati alimentari. Probabilmente erano a servizio di una comunità monastica che si era insediata in quella zona e che è stata abbandonata tra il X e il XII secolo, quindi intorno al 1100. Questa è una scoperta che io credo molto importante che tra le altre cose conferma quello che abbiamo sempre detto, che l'intorno di Monte Giove è sempre stato dedito alle attività di culto. Quindi non sarebbe una novità quello del ritorno dei frati trappisti. In questo momento il Consiglio Comunale sta così trattando della variante per l'insediamento dei frati. Qual è stata l'idea di avvalorare questo provvedimento? Beh, un'idea che parte da lontano, dobbiamo dirlo anche per correttezza, perché nel 2014 dopo aver chiesto il permesso a Sua Eccellenza il Vescovo di allora Armando Trasarti che concesse appunto il trasferimento dell'intera comunità monastica di Frattocchi ne consentiva anche l'edificazione e ovviamente i frati, la comunità si è rivolta al Comune di Fanno che già nel 2014 insieme alla sovrintendenza aveva valutato questo insediamento come positivo appunto che andava a rafforzare il valore di quell'area. È stato realizzato un progetto che si inserisce bene in una piccola valletta sul retro dell'Eremo di Montegiove che si apre su Magliano in maniera tale che potesse appunto prevedere l'edificazione di un nuovo monastero che ha un chiostro di 45 metri per 45 metri e attorno è stato costruito questo monastero secondo le regole benedettine. Il lavoro che loro produrranno sarà quello di conservare e curare l'ambiente la natura perché saranno dediti alla coltivazione non faranno birra come i trappisti sono noti nel nord Europa per fare birra loro non faranno birra ovviamente si dedicheranno a delle culture più autoctone. Qual è stata l'input che ha fatto sì che in una zona vincolata come quella di Montegiove è voluto però autorizzare questo insediamento? Costruiscono un edificio è vero ma conservano e curano l'ambiente sottraendo fra l'altro una parte di quell'area al degrado in cui era purtroppo caduta. In questo i monaci probabilmente ci aiuteranno. A Carignano invece sono partiti i lavori di consolidamento sulla strada Sant'Andrea dove otto anni fa scese una frana che isolò la frazione costringendo gli abitanti a percorsi alternativi. Sono partiti i lavori del primo stralcio di consolidamento di quello che è la frana di Carignano precisamente nella strada Sant'Andrea di Carignano e quindi a Valle laddove nel 2015 ci fu un importante evento franoso che interessò sia i residenti ma anche tutti quelli che ne erano fruitori. In un primo momento si fecero degli interventi naturalmente per cercare di contenere oggi passiamo in una seconda fase importante proprio a Valle dove andremo a realizzare delle gabbionate che sono praticamente coincidenti su tre assi sono delle gabbionate dotate di fondazioni a platea su dei pali e con dei tiranti passivi precisamente in questi tre punti oltre che a stabilizzare le stesse diciamo scarpate con quelli che sono dei terreni armati quali i basi di ancoraggio che poi diverranno oltre questo verranno realizzati dei fossi di guardia delle cunette per meglio come dire per far sì che il terreno possa ancora meglio essere aderente tutto l'effetto piovoso e nello stesso tempo verrà anche sistemata poi la sede stradale questo è un primo intervento che andremo a realizzare adesso un intervento che è importante anche a livello di risorse parliamo di 550 mila euro che appunto riguardano sia un finanziamento ministeriale per il rischio idrogeologico a cui ci siamo candidati ma anche una copartecipazione di risorse comunali questo si dovrà poi seguire ad un secondo stralcio di lavori che oggi non è finanziato ma come usciranno dei finanziamenti ad hoc ci candideremo sicuramente che dalla valle ci sposteremo a monte quindi precisamente sulla strada di Carignano più vicino al cimitero ecco che poi dovrà essere ripetuto l'intervento sulla parte alta oggi anche alla luce di quanto è accaduto ultimamente col terremoto con le ultime alluvioni il ministero si sta adoperando per erogare dei nuovi finanziamenti anche importanti e noi ci faremo trovare pronti con dei progetti significativi e di messa in sicurezza per la città domani sera martedì 26 settembre alle ore 21 nella chiesa di Torrette a Fano l'amministrazione comunale presenterà i lavori e la realizzazione dei servizi da parte di ASET SPA previsti a Torrette e Ponte Sasso inerenti al waterfront il progetto di riqualificazione del lungomare l'incontro è aperto a tutta la cittadinanza a chi darebbe fastidio una nuova clinica a Fano lo chiede la presidente del comitato riapriteci le terme di Carignano Beatrice Morbidoni intervenuta di nuovo sull'argomento penso che i cittadini fanesi si legge in una nota potrebbe risultare utile avere una struttura in più in modo che ciascuno liberamente possa avvalersi o meno dei servizi proposti ma la nuova società ormai tace da mesi inoltre ha proseguito Morbidoni riflettendo sul piano socio-sanitario appena varato dalla regione nulla è scritto sui posti letto in questione dunque viene spontaneo domandarsi il perché non li abbia assegnati al Santa Croce quei posti li vogliamo a Fano ha concluso la presidente e con destinazione ortopedica la possibilità di una terapia riabilitativa in acqua termale in acqua termale è quanto di meglio possa esserci per una pronta guarigione ci aspettiamo delucidazioni da chi di competenza e non si sentono affatto sicuri i residenti dell'Arzilla dai lavori fatti per contenere le piene del torrente non ritengono sufficienti gli interventi tampone e chiedono interventi strutturali per questo hanno inscenato una manifestazione di protesta per salvaguardare la loro sicurezza e la tutela delle loro case l'Arzilla al momento è tranquilla ma questo a voi non soddisfa che cosa intendete fare per l'incolumità delle persone noi cerchiamo dalle istituzioni una risposta ma che siano quelle che di interventi che devono essere fatti interventi risolutivi ed importanti per questo occorrono delle risorse e queste devono essere stanziate da chi di dovere cosa avete fatto fino adesso per ottenere questi risultati abbiamo cercato di sensibilizzare in continuazione le amministrazioni e le persone degli assessori del comune di Fano abbiamo fatto innumerevoli riunioni però a tutt'oggi ancora non sappiamo a dire delle amministrazioni comunali quali siano le competenze su questo torrente per gli interventi chi sono i soggetti interessati la regione Marche perché con la chiusura delle province la regione Marche nel genio civile si è preso carico di questo problema il comune di Fano la provincia il consorzio di bonifica questi sono gli attori principali che possono intervenire sul torrente la responsabilità dell'amministrazione comunale in merito a questa situazione di fatto esistono ancora inadempienze allora l'amministrazione comunale ha fatto quello che è diciamo nel suo raggio operativo ovvero abbiamo fatto la pulizia della vegetazione e le competenze del comune sono per la pulizia ordinaria e quindi la pulizia ordinaria è intesa poi in un'area che arriva proprio dopo il ponte del cambio questo è quello che è stato realizzato noi oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa però per segnalare il fatto che qui c'è un rischio altissimo proprio per l'inconunità delle persone cioè quindi alle mie spalle abbiamo case persone che rischiano la propria incolunità e quindi come dire le cose da fare non sono state fatte qui alle mie spalle vediamo il torrente e vediamo che la sezione del torrente si è alzata di un paio di metri quindi anche come segnalate la relazione fatta da questa società commissionata dal comune di Fano è importante pulire subito e ripristinare la sezione del fiume dopodiché indicano anche la questione di fare dei tagli della vegetazione selettiva nel massimo rispetto ovviamente dell'ambiente ma anche poi di fare delle aree di laminazione dove chiaramente si va ad attenuare in caso di piena il fenomeno atmosferico queste cose qui potrebbero ridurre di un bel 30-40% il rischio quindi riportare alla degna come dire situazione che una città come Fano è un quartiere come questo qua dovrebbe avere normalmente presentato a Fossombrone il bando pubblico relativo all'assegnazione dei contributi da parte della regione Marche utili per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche Marco Lonigro si è svolta si è svolta questa mattina la chiesa di San Filippo a Fossombrone una conferenza stampa per presentare la gradatoria del bando pubblico relativo all'assegnazione di contributi ai comuni marchigiani un aiuto importante della regione Marche utile per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche presente alla conferenza l'assessore regionale Francesco Baldelli che ha parlato di risposta sistemica a un problema che i comuni segnalavano da decenni alla regione Marche 4 milioni di euro per 11 comuni marchigiani una risposta sistemica a un problema che i comuni segnalavano da decenni alla regione Marche la necessità di recuperare un elemento identitario delle nostre città dei nostri borghi che insieme ai campanili delle nostre chiese o ai teatri storici dei nostri borghi rappresentano un elemento in grado anche di destagionalizzare il turismo nella nostra comunità regionale questi 4 milioni di euro attivano anche una compartecipazione comunale che portano gli investimenti che verranno cantierati nelle prossime settimane oltre 6 milioni di euro quindi un intervento particolarmente importante che in tre anni porta gli interventi diretti della regione a favore della filiera istituzionale a 90 milioni di euro 30 milioni di euro all'anno stanziati dalla giunta Acquaroli a favore dei comuni marchigiani un senso di grande vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità cittadine 4 milioni di euro per 11 comuni marchigiani un contributo importante della regione per contrastare il degrado e valorizzare il patrimonio lo dichiara il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni riuscire a contrastare il degrado sia una delle parti più importanti di degrado ce n'è troppo e c'è poco motivo per venirlo a visitare quindi il fatto di di contrastare il degrado contrastare quello che è l'abbandono è una parte fondamentale verso quel quel percorso che tende e deve tendere a migliorare e valorizzare quello che abbiamo ossia cercare di valorizzare il grande patrimonio credo che sia una delle cose più importanti sulla quale dobbiamo confrontarci e quindi sono enormemente contento di questa opportunità si è svolta domenica scorsa nel quartiere di Gimarra l'inaugurazione della mostra fotografica dal titolo Fano e dintorni nella quale hanno partecipato 20 fotografi locali e che sarà aperta al pubblico fino al primo di ottobre c'era per noi Cristiana Guerra 85 scatti fotografici e 20 fotografi tra ammatoriali professionisti che hanno esposto le migliori immagini del territorio fanese e non solo si tratta della rassegna fotografica dal titolo Fano e dintorni organizzata dal club anziani di Gimarra patrocinata dal comune di Fano inaugurata domenica pomeriggio presso la sala polivalente di Gimarra alla presenza del sindaco di Fano Massimo Seri e dell'assessore e della cultura Cora Fattori è una bella iniziativa questa mostra fotografica dove fanesi che hanno una passione per la foto si mettono a disposizione è una bella mostra con tante immagini che riguardano la nostra città il nostro territorio le nostre bellezze devo dire sono tante piccole opere d'arte dove il livello e la qualità è veramente molto molto alta e mi piace anche che si fanno in questi contesti questi spazi nei quartieri a disposizione della città dove si vivacizza anche le nostre zone non soltanto il centro storico ed è un'iniziativa che può essere ripetuta anche questa itinerante in tutte le sale che abbiamo a disposizione nella nostra città quello che mi ha colpito è che l'ennesima conferma di come la cultura sia importante per le persone la cultura l'arte e l'espressione che da essa ne deriva la persona non è un robot ha bisogno di esprimersi oltre al lavoro alla routine quotidiana abbiamo bisogno di altro e questo altro ci arriva soprattutto dalla cultura la fotografia può diventare cultura un mezzo di espressione e inizia in modo amatoriale e può svilupparsi in modo artistico quindi questi eventi sono importanti per questo perché ci aiutano a respirare e ci danno una vitalità e in più in momenti come questo creano una socializzazione sono momenti da non sottovalutare e gli spazi i luoghi della cultura col quale sto un po' rompendo le scatole se vogliamo servono proprio a questo organizzatore della mostra il club anziani di Gimarra col patrocinio del comune di Fano abbiamo pensato di dare visibilità ai tanti fotografi dilettanti ma quasi professionisti per la loro abilità per far rivedere le loro opere nello stesso tempo creare noi come circolo un archivio fotografico a futuro memoria in modo da raccogliere tutte queste belle immagini che altrimenti magari nel tempo potrebbero anche andare per da cosa nasce cosa abbiamo fatto un bel gruppo siamo felici di come è riuscita fuochi d'artificio al mare animali scorci e dettagli della città fanno dall'alto tramonti foto in bianco e nero capaci di emozionare e attirare l'attenzione dei più curiosi e degli appassionati la passione l'ho sempre avuto sin da balbino perché io da ragazzo da bambino dipingevo facevo anche le sculture in gesso in legno eccetera poi dopodiché una volta che sono entrato a lavorare all'università di scutteri lì ho avuto la prima mia macchina fotografica ma era del lavoro però lo gestivo io da lì è scattato quell'input che mi ha fatto innamorare queste foto ritraggono Fano maggior parte del mio archivio è Fano Fano perché perché Fano mi ha dato tutto la mostra fotografica sarà visitabile fino a domenica primo ottobre sin dal pomeriggio fino a tarda serata e a proposito di scatti concludiamo questa edizione con queste fotografie dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Coli al Metauro che sabato scorso ha festeggiato il quarantesimo anniversario della sua fondazione a Montemaggiore alla cerimonia era presente una folta rappresentanza di associati e familiari oltre alle autorità civili e militari è tutto per questa edizione di Occhio alla Notizia vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire un approfondimento di CNA dal titolo Idea Impresa grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV Grazie a tutti